Il Consiglio Comunale in tarda serata ha approvato a maggioranza dunque il piano straordinario di riequilibrio finanziario pluriennale richiesto dal Decreto 174, con l'astensione dei gruppi del Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Ricostruzione Democratica, Centro Democratico del Presidente Pasquino e del Consigliere Lebro dell'Unione di Centro. Si avvicina quindi l'anticipazione di circa 260 milioni che potrebbero arrivare entro febbraio, dopo il passaggio alla Corte dei Conti e poi al Ministero dell'Interno, e che sbloccherebbero anzitutto il pagamento dei creditori. Sono state confermate le aliquote massime previste dalla legge per l'Imu ed Irpef, ma sull'Imu il Sindaco è convinto che si possa arrivare presto ad una rimodulazione e per l'Irpef viene introdotta l'esenzione per i redditi fino a 18 mila euro, pare a circa 140 mila contribuenti. Sul patrimonio il piano prevede dismissioni di immobili per 730 milioni e 55 per gli autoparchi, mentre saranno dismesse quote societarie di minoranza per 50 milioni. Per raggiungere la premialità che darà accesso ad ulteriori 28 milioni di euro, saranno anche ridotte le spese per il personale e per i servizi del 10%.